eccoci eccoci buonasera metti via metti via tranquilla perché noi siamo gente rispettosa non andiamo mai a invadere l'intimo delle persone cosa che mutande porti non mi ricordo non si ricorda questa è una dichiarazione forte vuoi dirla in camera guarda che barbara d'urso ci ha chiamati ha detto che ha perso lo share al tuo non mi ricordo non si ricorda non si ricorda soprassediamo come ti chiami questo te lo ricordi questo sì da dove vieni cesena cesena ma cesena cesena o cesena montagna no no siamo noi siamo avvicini al mare cesena mare il famosissimo cesena mare ecco tra l'altro chiaramente come vedete cesena regia fa una panoramica la città dei fiori palesemente la conoscete visto sono tutte abbigliate a fiori quindi in piena primavera esatto è il tema ricorrente le le possibilità sono due o sono tutte giardiniere o sono fioriste quale delle due fioriste tutte fioriste fanno lo stesso lavoro a fanno lo stesso lavoro qual è il fiore dell'estate la peonia la peonia che è peonia è un fiore grazie magari me lo descrivi un pochino è largo di queste dimensioni circa sta molto bene nei bouquet nei bouquet allora consigliamo la peonia per 2018 tra l'altro io sto parlando con una sicurezza incredibile ma non ne so assolutamente nulla perché sei feticista delle caviglie regia regia sei troppo feticista delle caviglie cosa stai festeggiando qui da noi credo l'addio a credo l'addio al nobilato forse la comunione non lo so la comunione è giusto è giusto perché di solito si fa di domenica ma lei l'ha anticipato al sabato no è la sera prima della comunione ah ok quindi con le amiche diciamo che è un addio al comunionato si esatto da domani mangerà la comunione si esatto molto bene in classe possa porta ai cali il classico velo bianco da da esatto da futura madonna molto bene molto bene direi che è stata un'intervista ricca di significato ed è per questo che è arrivato il momento di salutare il nostro pubblico vuoi farlo tu ciao però prima ricordaci quando ti sposi con chi il 24 giugno con salvatore con tutta questa gioia sì bene bene perché me l'hai detto con un po di del senso ah è vero insomma no invece sei contenta molto bene ti salutiamo e ti auguriamo una buona serata ciao